ladies would you like to come forward please? all coming forward right stair stai su! do a bison vai con questo bicipite brava eh side chest! any side dita bene il gluteo brava Vai col tricipite, fagli vedere bene sta schiena, così, calma eh, vai, fiappala ora, Aspetta, aspetta, vai ora, butta fuori l'aria, chiuditi meglio, ferma, ferma lì, ferma lì. Questa è una posizione, piega i ginocci, così devi stare. Rapporti, Lena, rapporti, veloce, 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 veloce. Per bene, su, vai, spiegati un po', con la gamba, e, fai vedere il tricipite, Flora, sta un po' più su bianco, ecco, veloce, 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 veloce. Ripigliala di nuovo, vai, su ora, forza, le, le. Un po' di l'aria, no, ripiglati un po'. Alla, just relax for a moment. Anyone like anything else? Come on, Kay! Come on, Kay! 26, exit 27. Come on, Kay! Sorry, Gigi. 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 Si è un po' piegato con i ginocchi, ecco così, tirano sempre sta gamba, dai su, è tua eh, su doppio bicipite eh, brava Ehi, ferma lì, il precipito non ti gira è troppo eh, così, brava Aspetta, vai, comincia, ferma lì, boom Forza eh, si sta fuori in aria, ehi, buona, buona così, buona così Stai attenta eh, ecco ti, vedi, stiamo Piega un po' le gambe così, ehi Forza eh Flora, oh, andiamo, andiamo, posto un po' la spalla Su forza eh, che ci siamo Aspettala, posta, schiaccia ora, ferma, e poi vai su Eccoci Butta fuori, ehi, ferma, ferma Vedi è solo, esatto, è solo I canzionandoni, grazie a tutti, grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti